A sorpresa ma neanche tanto Lewis Hamilton rinnova il contratto con la Mercedes e sarà presente anche per il Mondiale 2021, un video extra rispetto alla programmazione ordinaria di questo periodo invernale del mio canale ma che era doveroso visto che comunque effettivamente nonostante questa sia una firma a mio modo di vedere molto scontata, effettivamente andava approfondita un attimino. Con un video extra in cui vi parlerò delle clausole che appunto contraddistinguono il contratto di Hamilton e anche delle mie opinioni a riguardo per iniziare un po' in anticipo quello che è appunto il programma dei video sul Mondiale di Formula 1 2021. Mancava la firma di Hamilton effettivamente al Mondiale 2021, una firma a mio modo di vedere scontata, il tiro e molla che c'è stato è stato abbastanza inutile, tutti probabilmente sapevano che Hamilton avrebbe rinnovato, c'era una piccola diattriba soltanto sulle condizioni. Alla fine Mercedes e Hamilton si accordano per un contratto annuale con opzione per il 2022 e le condizioni sono molto interessanti per Hamilton perché il pilota inglese, campione del mondo in carica, prenderà la bellezza di 40 milioni di dollari soltanto nella stagione 2021, probabilmente essendo il pilota più pagato in pista nonostante di fatto vada già in scadenza al termine di questa stagione. È un tiro e molla che oggettivamente, a mio modo di vedere, era abbastanza inutile perché si sapeva che Hamilton avrebbe rinnovato, bastava semplicemente capire se era un rinnovo pluriennale o annuale come appunto voleva la Mercedes. Hamilton aveva addirittura proposto un pluriennale di 4 anni strapagato con un fottio di soldi in modo che avrebbe corso fino a 40 anni. La Mercedes ha proposto di controfferta un 1 più 1 e alla fine è proprio questo 1 più 1 che andrà di fatto a firmare Hamilton. Peraltro è tutta l'ufficiale notizia di questa mattina e dunque avremo ancora una volta Lewis Hamilton in questa griglia del mondiale di Formula 1 2021 che appunto lo vedrà obiettivamente favorito. Questo è il tweet del profilo ufficiale della Mercedes che appunto fa vedere le firme di Hamilton e di Toto Wolff, frasi di circostanza dette da entrambi, ovvero che si migliorano ancora sia in pista che fuori in un mondiale che oggettivamente vede ancora la Mercedes come favorita, considerato che appunto le regole non sono cambiate e saranno rimandate al 2022. A proposito del 2022 l'opzione del contratto è presente ovviamente a favore di Lewis Hamilton. Per usare un termine degli sport americani in questo caso è un contratto annuale con un'opzione che è sia del giocatore, in questo caso un pilota, Lewis Hamilton, sia della Mercedes che in base all'andamento del mondiale 2021 e anche dello sviluppo della Mercedes in vista del 2022, anno cruciale per la Formula 1, visto il cambiamento delle regole, potrà o meno esercitare l'opzione in modo che comunque eventualmente possa fornire a Hamilton un potenziale nono titolo del mondo, considerato che l'ottavo sulla carta lo vede ancora una volta favorito. Io mi auguro non dominando in lungo e in largo come ha fatto il mondiale scorso dove per lunghi tratti è stato un mondiale noiosissimo con una Mercedes iperdominante con Hamilton che di fatto ha corso da solo perché Bottas non è mai stato un degno avversario per il titolo del mondo e ha vinto diciamo il mondiale dei record con il maggior numero di vittorie in carriera e anche eguagliando il titolo del mondo di Schumacher di fatto senza avversari, sbagliando pochissimo e correndo da solo e questo logicamente lede un po' lo spettacolo anche per chi è appersonato come me che segue la Formula 1 a prescindere da 20 anni a questa parte. È un contratto di Hamilton assolutamente faraonico perché qui non sono riportata nel comunicato ufficiale della Mercedes ma appunto parliamo di 40 milioni per un singolo anno. Vi ricordo che 40 milioni era lo stipendio che prendeva il povero Sebastian Vettel in Ferrari. Povero si fa per dire, poveri tifosi della Ferrari che dovevano assistere alle grandi performance di Vettel e della Ferrari lo scorso anno. Hamilton puntava a essere strapagato, effettivamente è stato così. Si parlava di questa richiesta di Hamilton di offerta pluriennale di 30 milioni per 4 anni, alla fine nesce fuori soltanto con 40 milioni in un anno solo. Poverino, insomma, dubito che faccia fatica in questo momento arrivare alla fine del mese. È un contratto faraonico, è un contratto che per meriti sul campo, mentre ci spostiamo sulla firma autografa del contratto, effettivamente è meritato per appunto quello che ha combinato. Certo, ci si aspettava che magari si potesse combattere di più questi titoli del mondo e invece appunto commentiamo l'ennesimo mondiale di Hamilton vinto da solo perché da quando è stato il duello con Nico Rosberg, Hamilton ha avuto come compagno di squadra Valtteri Bottas che oggettivamente appunto è una onestissima seconda guida paragonando di fatto al periodo in cui c'era Schumacher dominante con la Ferrari e il povero Barrichello che di fatto faceva quello che faceva, ovvero la seconda guida. A proposito però dei compagni di squadra ed è un'opzione che non è nominata, comunque almeno è una voce che pare girare, non solo l'opzione del 2022 sarà esercitata in base al lavoro che la Mercedes potrà fare in vista del appunto 2022 ma appunto si parla anche del fatto che Hamilton abbia di fatto libertà e decisione totale sul suo futuro compagno di squadra in un'ottica e presumo io che George Russell finito il contratto con la Williams che a me ma dovrebbe essere anche lui in scadenza alla fine di quest'anno dovrebbe vedere appunto il pilota inglese salire alla Mercedes ufficiale considerato che Russell ha fatto benissimo nell'unica gara che ha fatto in Mercedes ufficiale di fatto quasi vincendo una gara poi facendo quel casino che fecero nel box Mercedes Russell non la vinse insomma a Hamilton secondo me fa un po' più fatica vedere Russell in Mercedes con lui a fianco invece che Bottas che comunque ha anche lui il suo piano ben definito ovvero portare i punti a casa per il mondiale costruttori cosa che invece Hamilton non deve augurarsi con Russell considerato che anche il giovane britannico è un pilota molto talentuoso Hamilton logicamente correrà per cannibalizzare un mondiale 2021 che comunque si annuncia molto lungo perché saranno 23 gare e ovviamente vuole ancora una volta arrivare a le triple cifre sia di pole position sia di vittorie perché con la Mercedes che ha sarà scontato che Hamilton raggiungerà le 100 vittorie e le 100 per position e chissà l'ottavo titolo del mondo per a numeri essere considerato il più grande di sempre poi su chi tecnicamente lo sia o meno è inutile stare qui a dibattere piloti di tutte le epoche ci sono stati grandi e meno grandi a mio parere Hamilton rimane comunque uno che si può sedere allo stesso tavolo di Ayrton Senna e Michael Schumacher per mentalità per effettivamente numeri riportati va detto che comunque chi ha avuto una streak così vincente di titoli del mondo è effettivamente perché ha sempre avuto una macchina molto competitiva Hamilton magari a differenza di altri piloti ci ha messo magari quel qui di in più in certe condizioni limite che appunto lo fa salire di livello magari a differenza di altri piloti che hanno vinto un titolo del mondo e magari si sono fermati lì va detto che comunque di contraltare ci sono anche piloti che hanno vinto molto meno ma che meritavano molto di più e Nico Rosberg a mio modo di vedere è uno di questi Lewis Hamilton effettivamente va a firmare un contratto molto impegnativo è un contratto appunto faraonico per le cifre che sono girate cifre a mio modo di vedere folli ma va bene così è un contratto che secondo me poteva essere firmato molto prima risparmiandosi tanta scena rispetto al tire molla che è durato praticamente alla scadenza del contratto perché di fatto Hamilton era in scadenza a dicembre 2020 e non ha firmato prima della fine della stagione anzi ha aspettato di fatto la off season per usare un termine degli sport americani però oggettivamente era un tire molla un trattare di qua e di là oggettivamente inutile si sapeva che prima o poi Hamilton avrebbe firmato e mai avrei diciamo creduto a un suo ritiro per quanto una sensazione vaga ce l'avevo ovviamente un pilota del genere non smetterà mai di correre finché nella suo punto di vista non sarà considerato il più grande di tutti i tempi anche se ovviamente come ho detto prima è molto opinabile ovviamente io avrei firmato prima già alla fine della stagione scorsa cosa che così non è stata è stato un tiramolla abbastanza inutile alla fine si sono trovati appunto in un accordo di un anno di contratto con opzione per il 2022 a soli 40 milioni l'anno insomma Hamilton ancora una volta di fatto l'ha avuta vinta e adesso che è ufficialmente presente sulla linea è lui il favorito per il mondiale 2021 di Formula 1 che partirà il 28 marzo in Bahrain in un calendario che appunto vedrà 23 gare all'attivo fatemi sapere cosa ne pensate del rinnovo di contratto scontato in modo di vedere ma comunque presente di Lewis Hamilton ovviamente per quanto riguarda il mondiale di Formula 1 verso metà marzo quando si saranno definiti i test avremo modo di presentare il mondiale di Formula 1 che appunto ripeto partirà il 28 marzo in Bahrain per quanto riguarda invece il canale sportivo il prossimo appuntamento sarà il 22 di febbraio quando partiremo con il mondiale di sci nordico di Oberstom in Germania e anche lì arriverà una presentazione dedicata soprattutto per quanto riguarda le discipline salto con le sci e combinata nordica intanto iscrivetevi se non l'avete fatto e non lo vedete a questo video se vi è piaciuto il saluto da parte di Mediotorgerd ci vediamo al prossimo video Grazie mille Grazie mille